La comunità di Montesano sulla Marcellana è lutto per la tragica scomparsa di Antonio Bianco, appuntato dei carabinieri, deceduto in Sudafrica dopo un lancio con il paracadute. Figlio di Gaetano Bianco, ex comandante dei carabinieri di Nichelino in provincia di Torino, lavorava presso l'ambasciata italiana in Sudafrica e proprio qui sarebbe avvenuto il tragico incidente. Il volo era la sua passione, il suo mestiere, eppure uno dei tanti lanci eseguiti nella sua lunga carriera è andato male sabato scorso intorno alle 13, a Pretoria, dove si stavano svolgendo i campionati nazionali. Una manifestazione sportiva, dunque non un'esercitazione militare, ma Antonio Bianco si lanciava anche per divertimento, anche nel tempo libero, era esperto, aveva sangue freddo, eppure sabato, secondo la ricostruzione dell'incidente, il suo paracadute si sarebbe aperto regolarmente, ma per causa in corso di accertamento si sarebbe poi girato in maniera innaturale. L'atterraggio, dunque, non sarebbe stato armonioso e Bianco avrebbe battuto malamente la testa e il collo, morendo sul colpo. Ora si stanno svolgendo tutte le attività necessarie a garantire il rimpatrio della Salma. Scossa la comunità di Montesano sulla Marcellana, di cui il giovane era originario, il sindaco Donato Fiore Volentini ha avuto parole di cordoglio per l'intera famiglia. Antonio Bianco era nato e cresciuto nel Torinese, ma la sua famiglia era nota e ben vista a Montesano. Si era arruolato giovanissimo, seguendo le orme del padre, poi era stato nel reggimento Tuscania, dove aveva appreso l'arte del volo. Da lì le missioni in Iraq, Afghanistan, Albania, Libano. Infine, da tre anni, era in Sudafrica, negli uffici diplomatici italiani, come agente di sicurezza. Appassionato di palestra e musica nel 2000, aveva fatto parte anche di un piccolo gruppo. Lascia la moglie e due figli piccoli, con cui nei prossimi giorni avrebbe dovuto festeggiare la Pasqua, visto che domenica era di turno. Grazie.